Noa senza sosta l'attività di ripristino del decoro urbano da parte della pulizia locale. In distinte operazioni svolte dalle varie articolazioni del corpo sono stati combinati una serie di verbali per violazioni di legge e regolamenti. In particolare nel rione Santa Caterina sono state sequestrate circa 30 kg di derrate alimentari vendute in assenza delle prescritte autorizzazioni ed in violazione alle norme igienico-sanitarie. La merce era infatti esposta sulla careggiata, sanzionato il venditore per oltre 5.000 euro. Lungo le bretelle calopinace sono stati combinati 12 verbali per allocazione abusiva di cartellonistica pubblicitaria. Altri sette impianti sono invece al vaglio degli uffici. Sono stati altresì segnalati due soggetti alla Procura della Repubblica Cittadina titolari di altrettanti esercizi commerciali per installazione abusiva di canna fumaria. Sempre sulle bretelle sono stati sanzionati due commercianti ambulanti per violazioni della legge regionale in materia di stazionamento su area pubblica. Altri due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per occupazione abusiva di un alloggio popolare. Sul fronte dei controlli su strada continua l'impegno di routine anche attraverso posti di blocco in aree periferiche che hanno consentito di elevare numerose sanzioni per mancato utilizzo dei mezzi di ritenuta.